Chi la fa l'aspetti? È proprio il caso di dirlo dopo quanto accaduto la scorsa settimana ad Agropoli. L'auto della polizia locale è stata affermata ad un posto di blocco e multata dagli agenti della stradale. Il caso ha voluto che ad essere sanzionata fosse proprio la vettura che montava a bordo il famigerato Scout Speed, ovvero il nuovo autovelox mobile utilizzato dal comune di Agropoli. La macchina dei vigili urbani stava effettuando la sua attività di controllo nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana quando è incappata nel posto di blocco della stradale di Vallo della Lucania. A tre caschi bianchi non è parso vero di vedersi estrarre dinanzi agli occhi la paletta e di essere intimati allo stop. Dopo un attimo di smarrimento però sono stati costretti a consegnare patente e libretto. Agli agenti della stradale, dopo un accurato controllo dei documenti, sono balzate alla vista alcune irregolarità. Sulle reali infrazioni poliziotti e vigili mantengono il massimo riservo ma pare che le anomalie siano relative all'auto e al contratto tra l'ente e la ditta che gestisce l'apparecchio. Quest'ultima è titolare della Fiat Punto. Benché l'auto infatti reca la scritta Polizia Municipale, questa non risulta di proprietà del comune. Per gli agenti quindi il mezzo violava specifiche prescrizioni del codice della strada. Da palazzo di città respingono le accuse al mittente ed anzi il sindaco Coppola si dice deluso dell'atteggiamento della polizia.